Passare dal progetto politico all'attuazione fattiva. Quella odierna è una giornata importante per la macro-regione adriatico-ionica che segue un'altra fondamentale lo scorso 28 ottobre, quando la seduta plenaria di Strasburgo ha approvato l'emendamento contenente il completamento del corridoio baltico-adriatico sull'intera dorsale adriatico-ionica, l'estensione nord-sud del corridoio scandinavo-mediterraneo e una migliore connessione tra la penisola iberica, l'Italia centrale e i Balcani. A Pescara, infatti, si celebra una giornata di lavoro alla presenza di Nicola Dobroslavic, presidente della Contea di Dubrovnik e dell'Assemblea Generale dell'Euroregione Adriatico-ionica, di Aldrin Dalipi, presidente della regione di Tirana e vicepresidente dell'Assemblea Generale dell'Euroregione Adriatico-ionica, dell'Europarlamentare Massimo Paolucci, sostenitore dell'emendamento per le reti di trasporto TNT e Sandro Gozzi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinatore della cabina di regia nazionale per la macroregione Adriatico-ionica, tutti ospiti della regione Abruzzo e del presidente Luciano D'Alfonso. In discussione c'è la sottoscrizione di un patto per la connettività dell'Adriatico che impegnerà le regioni e gli altri enti coinvolti nello sviluppo degli interventi infrastrutturali sulle reti di trasporto. Parliamo di una comunità che conta 960 miliardi di euro di PIL, circa 60 milioni di abitanti, 41 milioni di popolazione attiva, abbiamo qualcosa come 4 milioni di studenti e 132 mila brevetti. Insomma è una vera e propria realtà che ha bisogno di potenziamento infrastrutturale e di una classe dirigente coesa che condivide le priorità.